Ciao e bentornati su MyFootballJersey. Oggi vedremo insieme la maglia da trasferta del Liverpool per la stagione 22-23 in edizione FUN, la maglia di Virgil. Prima di lasciarvi vi ricordo di mettere un like al video e di iscriverti al canale per avere altre recensioni in futuro. Ora vi lascio la parte in cui vedrete tutti i dettagli, ci vediamo alla fine per la vestibilità. Ciao! Il vertiginoso nuovo design si ispira alla vibrante scena musicale della città e in particolare al ruolo pioneristico che ha svolto nella scena della musica dance degli anni 90. La maglia da trasferta Nike Liverpool 2022-23 è prevalentemente bianca, abbinata al nero per loghi e applicazioni. Ufficialmente la maglia è indicata come bianca-nera, anche se come potete vedere è molto più sofisticata. Ciò che distingue il kit da trasferta è un design in marmo multicolore. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100% ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica, un ulteriore passo di Nike e del club verso una produzione più sostenibile e attenta all'ambiente. La maglia FUN è la versione pensata per i tifosi e ha una vestibilità più comoda. Cosa ne pensate della maglia? Secondo me è molto bella. Nella mia personalissima classifica questa prende 4 stelle. Molto bella questa fantasia, peraltro come sempre modo di dire nelle seconde e nelle terze maglie gli stilisti riescono a dare il meglio di sé perché non sono vincolati dallo standard della prima maglia. E questa è veramente bella, ben riuscita, secondo me piacerà tanto ai più giovani. Qui in alto vedete il costo, veramente bassissimo come al solito, su JJ Sport non si sbaglia. La spedizione è stata anche molto veloce e la qualità è ottima, in ogni dettaglio rifinita benissimo. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e un coupon per avere 3 dollari di omaggio, diciamo così, da poter sfruttare e peraltro per aiutare anche il canale ad avere altre recensioni in futuro. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità, ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FUN. Ciao!